Ciao YouTube! Tutto Gars! Tutto fate dall'asina! Ciao ragazzi, oggi faremo un video speciale Cioè, tutti i giovedì faremo un bel video speciale dove ci vestiremo, oggi siamo degli allenatori di Pokémon Guardate le maglie, ve le mostreremo dopo E siamo nel nostro locale preferito, la Hawaii Dove ci vestiamo, andiamo in giro, facciamo cazzate E la cazzata del giorno, sapete qual è? No, non lo sapete, adesso ve lo dico Ci vestiamo da allenatore, siamo già due allenatori Con le Pokéball E andremo in giro a catturare le ragazze Ciao ragazze! Ciao! Vogliamo solo catturarvi Ciao! Ciao! Vogliamo farmi una domanda Noi siamo due allenatori di Pokémon Ha visto con le Pokéball e le tuve Te giochi a Pokémon È gioco Quindi stai cercando anche te gli uccelli leggendari Perché qua ce ne son due Vabbè dal mio bione Allora siamo in tre Perfetto, hai trovato i 3 di ricerche in giro. La storia è la prima di Pokémon 2. La storia è la prima di Pokémon 2. No, 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 no. Dobbiamo solo catturarlo. E abbiamo qui la Makeup. Quindi, cercate il canale, mai allora. Adesso... Scusate, salutate! Dai, fatti catturare! Facciamo un selfie! Vieni, vieni! Abbiamo catturato questa ragazza che si chiama, che si chiama... Maria Teresa che ha trovato persino tutti e 3 gli uccelli leggendari. Piaccio, Cuoco, Articuno, Zapdos e Moltres. Esatto. Quindi, ragazzi, fate complimenti per la ragazza che ha trovato tutti e 3 gli uccelli leggendari. La prossima ricerca sarà per Mew. Parlate vostri scritti, ciò, a Mew. Voi, i miei scritti, cosa gli diciamo? Li catturiamo prima altre, ci sennò altrueremo altri 100 iscritti. Ciao! Devo farmi un altro maschio. Veloce, allora un attimo! Dai, da qui! Ti auguro che foto con il passaggio! No! Ciao! 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 Ciao, ragazzi! Dovrei chiedere... Ma voi per il caso uscate il Foto? No! Scusate? No? No? Non avete... Non avete neanche l'applicazione carichata? No! Quindi voi non potete conoscere che il Gindale porta il mio Mewtwo, no? Te li conosci? Te lo conosco, ma non ci sono. Sì, perché qua per caso dobbiamo vado per le maschere di qua. Sì, vieni qua, siamo la peggioranza. Perché guarda altri, magari voleva dire una cosa. Noi siamo due pochi allenatori che non vedete. Abbiamo le forze, e quindi in realtà hanno cercato il mio Mewtwo. Però, visto che abbiamo trovato voi due, mi sembra sia meglio come fuori. Vieni qua Catozzi. Come ti chiami? Carolina. Carolina, abbiamo catturato Carolina. Ma io avrò mai vostro video. Sì, è su YouTube ragazze. Mi chiamo Maialmondo. 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 Maialmondo, guarda. Maialmondo. Iscrivetevi perché qua abbiamo già sui praticenti iscriviti. Maialmondo. Maialmondo. Ma c'è da sé ufficiale. Maialmondo. Ma c'è da sé ufficiale. Guarda. Ti voglio tanto bene. Oppure, se non lo provi, se non lo provi, se non lo provi, se non lo provi. Per eccezione, catturiamo anche lui. Da paura. Come ti chiami te? Eh, non te lo dico perché stai male. Eh, allora. Alex. Alex. Parla così. Axel. No, Alex Alex. Grazie mille ragazzi. Il video lo vediamo su YouTube. Vi ho dato il nome al canale. Oh, sì ma. C'è un canale. C'è un canale. Maialmondo. 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 vediamo dopo, dai. Io ti adoro. Vi voglio fermare un secondo. No, dobbiamo andare in testa. Fattiamo un altro negozio. Eh, no. No. Eh, va bene. Vole il mio. Vedete a fermare un app. Vediamo voi. Sai che c'è il suo app. Però stanno con nessuna ragazza. Perché non è se c'è la scelta. Un poco. Un uomo. Maialmondo. Maialmondo. Devono vederla. Devono vedere. Sì, vabbè, lascia le pizze No, no, no Catturiamo l'uomo Sì, sì Ciao, sono su YouTube Su YouTube Oh, catturiamo il nanetto Vieni, vieni, vieni Catturiamolo Ragazzi Ragazzi Giochi a poco non go Lo conosci il mondo del sport Sì, 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 però mi sei impalato l'app Guarda, guarda che fortuna che hai Allora hai trovato Uno, due, tre, sette, sette Viste che è quello di fuoco Fuoco, ghiaccio, elettro Adesso c'è che fortuna Dobbiamo catturarti per fortuna Dobbligati Anche Edwin sta facendo Dalla stessa da Pokémon Sì Vieni Lo chiamano sempre È ricercato È il miglior Pokémon Dobbiamo catturarti Aspetta Come è che ti chiami Pokémon? Abbiamo catturato Gaia Vieni dalle picci Sto vicino all'angulata Grazie Gaia Questo video Comunque vi volevo dire che Aspetta che Guarda, guarda Volevamo dire che noi siamo dei Trattori seriali che ci fanno anche le tifiche di assi Perché Stiamo facendo video sui video Il canale è mai al mondo Se non lo provi Adesso abbiamo iniziato Vuoi iscriverlo? Sì, sì Guarda Vuoi che te lo faccio? Noi abbiamo gestito oggi Una nuova rubrica Che è tutti i giovedì Faremo In modo strano In modo strano Dai Vai, vieni qui Lui non vuol venire Guarda, non lo faccio solo No, non ci chiamano Sì, sì Guarda, ci sono i miei allenatori Ma io ho chiesto poco Perché sono i miei allenatori Ma sono due allenatori Oh, che catturato? Lei abbiamo catturato Lei? Però, c'è il problema Che c'è il suo stesso esemplare Che è maschio E non è molto contento Se lo catturano Usa l'attacco idropompa Immagino Eh sì No, ma sto scherzando No, ma sto scherzando No, ma sto scherzando Si scurdo non fa Simile, dai Stiamo cercando degli squirt Anche noi Sì, lo troviamo Vieni qua Troviamo anche te Come ti chiami? Te invece Eleonora Lei è meglio Mi tu comunque E tu invece Come ti chiami? Iscrivetevi tutti quanti Camilla Yeah, Camilla Abbiamo catturato anche Camilla C'è voi Oh, dove lo trovi? Ciao 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 Ci andrà a facciare le ultime due clip Ciao No, dove c'è andato Che non ha le chiavi Dio, parla G, vai in mezzo alla pista E non c'è più in casa I due allenatori di poco Vedi a fermarlo? No, grazie Sei sicuro? Eh, se posso qua fatti La scappa via È perché è merda Registra, registra sta merda Registra bene che faccia schifo il cane Ma come? Ciao Stai facendo un video? Bravo, stai facendo il video Catturiamo te loro Raga, non si vede Eh vabbè Come Zeiss Come Zeiss Ma ecco Alla cattura in diretto No Non è qua Ciao Iscrivetevi Stavate per cattivare i tuoi troglioni Ma le conosco io qua No, no Orgodio Registra ben qua Falcura Dovevamo fermare Andiamo andiamo Ciao Ale Ciao Adesso Non si calmeranno più Dove sei inserito? Po To Cosi No 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 Grazie per la visione!